Grande fratello VIP 2022-2023 26 gennaio 2023 7 e 41 Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi ai ferri corti al GF VIP. Lei? Voglio andare via da qui. Ieri sera è proseguita la lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donna Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non rivolgere la parola, mi fai del male, poi è scoppiata di nuovo in lacrime. Non sto più bene con lui, mi fai del male. Io non prendo in giro nessuno, sei un bugiardo. Io non ti riconosco più ha urlato. La reazione di Oriana Marzoli subito dopo lo scontro Antonella Fiordelisi, è scoppiata nuovamente in lacrime. Intanto Oriana Marzoli, parlando con Jaele e Nicole Murgia, è venuta a conoscenza di una crisi di panico di cui l'influencer Campana avrebbe sofferto. La concorrente spagnola ha così lasciato il salotto sfogandosi con queste parole. Fatemi uscire da qui, indicando la volontà di uscire in giardino, ndr, non ce la faccio con queste st asterisco, on asterisco a te. Mamma mia! Andrea Maestrelli ha poi raccontato di aver visto la Marzoli ridere, mentre Antonella piangeva.